Scusi, dove posso chiedere un'informazione? Scusi, dove posso avere un'informazione qui? Ho bisogno di chiedere un'informazione e di prendere una copia di un decreto. Grazie. Scusi, posso chiedere un'informazione per un mio affare? Scusi, io sono Volveri e proprio per questo ho bisogno della copia di un'ordinanza del secondo marcio. Scusi, posso chiedere un'informazione? Scusi, cosa chiedere un'ordinanza? Scusi, cosa chiedere un'ordinanza? Scusi, cosa chiedere un'ordinanza? Grazie a tutti.